andiamo a trovare sempre sull'ottimo twitch se siamo in diretta ma nel caso credo di sì perché faccio sempre lo stesso click e ormai comincia ad essere sempre un po più sicuro di me però non si sa mai meglio controllare sempre se siamo in diretta si siamo in diretta come al solito e stasera buonasera a tutti ciao roberto si funziona tutto audio tutto ok tutto check quindi siamo solo noi mi sa che cominciamo giusto al posto di siamo in attesa anche di silvia ma intanto si intanto sì io mi collego anch'io ecco così vedo io devo sempre fare mi dimentico sempre multiplayer devo creare qui la lobby no basta che carichi la campagna ok devo caricare dopo che carico carica la campagna poi vai su sessione e da lì clicchi sulle finestre e ci inviti direttamente che in automatico qui su stile come fa sempre ti decise l'audio della musica ho alzato un po l'audio della musica in realtà se da fastidio ho fatto ciò sapete che secondo me non si sentiva bene secondo me mutami che sento la mia voce sì lo sto facendo un attimo ok lo sto facendo un po di no vabbè tu hai alzato hai regolato il volume dell'audio del microfono diverso da quello del no 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 semplicemente ho alzato la musica sul gioco quindi si sentirà di più la musica però se si sente troppo rompiscato la vado ad abbassare senza problemi e faccio così io stacco un attimo il microfono così vedo come la situazione aspetta e ora non c'è più di fare un po di e ma aspettiamo che esce la musica e poi dopo stacco il mio microfono discord qui un attimo ecco qua la risposta auguro ti continuo a parlare io non penso che sia così problematica credo che sia abbastanza 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 solo al 40 per cento a posto sono delle belle così ti devo invitare qui vedo solo silvia roberto da invitare roberto presidente no avevo silenziato il microfono ma io solo silvia qui da invitare mi sentite no avevo silenziato il microfono si 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 sento si buonasera si ma sento tanto ritorno ragazzi se lo staccate fatto fatto bravo un po lontana sinceramente però spero bene però spero faccio una cosa spero si su discord aumento un attimo il tuo audio così ah perché se no forse si sente da roberto perciò ti sento lontano si ma hai staccato il microfono si lei c'ha il microfono no no non l'avevo ok adesso come va meglio ecco eccoci qui scusatemi mi sa che c'è una telefonata a casa mia e i miei già saranno a letto scusatemi un attimo ah si si ma un secondo intanto potremmo invitarci non ci ha invitato prendiamo il controllo noi della situazione prendi tu il controllo della situazione no no anzi lo prendo io che sono il guerriero qui vabbè intanto facciamo un riassunto di dove siamo arrivati allora ecco dove siamo arrivati dobbiamo fare spoiler comunque l'audio dove siamo arrivati no perché nella partita di allenamento di ieri sera abbiamo fatto seguito altri percorsi quindi al dire il vero in questo momento le idee un po' confuse perché ricordo la partita di ieri sera vabbè diciamo che l'ultima volta noi ci eravamo fermati è un video scusatemi ragazzi dove c'era praticamente io l'invitato del Waldo's Gate West aspettando entriamo purtroppo qua a casa mia le nove e mezza è come le tre del mattino sì sì non ti preoccupare per noi invece praticamente è appena finito l'orario di cena no perché figuratevi infatti noi quando telefona qualcuno dopo le nove ci inquietiamo diciamo Dio cosa può essere successo a quest'ora ci inquietiamo un po' così vabbè alla fine è tutto a posto sì tutto a posto non apparente ah ok va bene allora mi chiedeva Roberto di fare un piccolo assunto della situazione cioè dove siamo arrivati sì allora cosa abbiamo fatto l'ultima volta dopo esserci sfracellati sul suolo con il Naughty Lloyd dei Mind Flayer adesso abbiamo un po' guardati intorno sulla spiaggia questa spiaggia della costa della spada un po' non si è capito che punto è però siamo vicini a Baldur's Gate forse un giorno la vedremo il gioco si chiama Baldur's Gate ancora non l'abbiamo visto nella città umana esatto vabbè forse un giorno riusciremo a incontrare Baldur's Gate sulla nostra strada in ogni caso abbiamo esplorato la spiaggia e abbiamo trovato questo rifugio gestito dai tiefling dove vi erano anche dei druidi che effettuavano uno strano rituale non ben specificato, identificato per un malinteso i druidi ci hanno lasciati anzitempo hanno lasciato un vuoto di loro per un piccolo malinteso per un malinteso i druidi poi hanno deciso di andarsene, di suicidarsi e potto fare attaccando un po' tutti quanti e noi abbiamo detto vabbè noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare adesso possiamo andare a fare il resto e quindi adesso andiamo a sconfiggere i goblin perché ci hanno detto vabbè visto che siete così bravi a uccidere gente andate a uccidere i goblin che secondo loro non sono persone a quanto pare ma i goblin hanno una loro dignità io so già che mi pentirò di questa cosa e vorrò tutti morti i goblin sono già sicuro di questa cosa però vabbè nel frattempo intanto Claudio se vai su stessione e magari mi dai a me il personaggio miglio e da Silvio il personaggio suo ma ok non l'avevo visto un secondo c'era questo errore ok a posto perché io pilotare quella cosa con i cosi blu ma quando mai è una dru? quella cosa con i cosi blu non c'è stato molto carino è una dru tra l'altro i dru sono spesso e volentieri discriminati nel mondo del ferro quindi purtroppo comunque prima di andare a Baldur's Gate eh sì come se oggi arrivassimo a Baldur's Gate c'è un sacco di però dice Baldur's Gate Ovest sì 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 certo io ho come l'impressione che questo early access finisce una volta arrivati a Baldur's Gate ho questa strana impressione possibile non lo sappiamo però dobbiamo attraversare il ponte qua? no prima no no e là andiamo a Baldur's Gate di qua c'è ma magari magari si andasse a Baldur's Gate ok e nanzitutto decidiamo chi conduce? io so seguo io so seguo no io no perché solo quando solo quando ci sono i diciamo i le conversazioni lì sì aspettate che c'è un ok là si tu hai il carisma no no ma non per qualcosa qua ci stanno le liane che ci bloccano faccio un appunto faccio un no ma io c'è un salto un po' schifoso perché il mio personaggio non ha molta forza ok sì che hai trovato qui giù ehi aspettaci al canico non correre che hai trovato? si è prudente ah si può passare il fiume a piedi bene perché c'era un ponte e tu ce lo fai attraversare a piedi vabbè no ma questo è sotto al canico non è spesso di malintensi vai piano che è successo? che hai scoperto? un nido di qualche tipo sì tracce di qualcosa orme di qualcosa guarda terra erano orme molto grandi e il fatto che il gioco abbia fatto un autosave mi inquietano un poco però ok sei qua qui siamo proprio nel nido o il nido di che? io sto ancora ok all bear dovrebbe essere orso ciletta aspetta che arrivo ah sarebbe l'orso cuffo che è un animale orso cuffo ok sì è un orso cuffo è una bestia una bestia magica attenzione qui tanto il mio istinto è drone dice di andare piano al canico non ti lanciare c'è una preda morta di orso cuffo chi è? ho trovato una pietra è un gomme altrimenti al canico va a depredare perché al canico non è questo io devo dire anche io depredo prendo questo bel piccone che hai trovato da questo cadavere? niente? no niente sono una pietra una pietra una pietra una pietra la butta a terra te la faccio vedere? vabbè no se è una pietra normale non importa l'algobelino eviscerato questo luogo una pietra pesante una pietra pesante bello mi piace sto da fai vedere? il stone a sinistra c'è uno screen interessante a destra sei tu sei tu la nostra ladra a quanto pare allora dipende voi da che parte volete andare ma guardate che a destra sono l'orba della bestia e a sinistra uno screen luccicante ah no ma aspetta quello screen mi sembra molto strano però vabbè andiamo a destra è troppo bello andiamo a destra ci vedi Roberto oppure devo lanciare oh 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 sì sì eccolo eccolo lì ecco l'orso gufo mandiamo davanti sì sì no mandiamo qualcun altro davanti sicuramente come ci vogliamo posizionare? questo ci attaccherà forse aspettate un secondo scusate allora col tasso destro puoi esaminarlo no voglio chiedere un attimo di applicazioni sul computer che scusate ha anche un piccoletto è dietro guarda sono due ma io non voglio attaccarlo poverino eh credo che lui attaccherà noi non lo sappiamo comunque allora se tu vai col tasso destro sopra questo gufo orso ti dice lo stato che c'ha eccolo qua che bello complimenti distressed sì ha una condizione che ha all'occhio malaticcio e non può fare critici e ha svantaggio sui tiri di percezione vogliamo andarlo a disturbare tanto abbiamo c'è stato l'autosave quindi andiamo tranquilli chi è che c'ha un buon buon che qualcosa un affinamento che è animale nessuno di questo parte l'unico l'unico penso sia il il ranger che c'ha questo ma non l'abbiamo fatto il personaggio ranger dopo vediamo che succede ragazzi come ho detto io non andrei avanti sì 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 ma sto facendo passettini io guardo qua su in modo ora il piccoletto dietro c'è il figlio sì sarà il cucciolo amore ecco sei è una conversazione vengono da autorigliare che faccia la sgomenta è leggermente minaccioso beh verso cufo ops non mi guardare così io provo a fare animal handling no tu che c'hai non c'è niente di tutto questo immagino non hai nessuna di queste abilità proprio però c'hai quindi c'hai questo malto quindi si prova c'è l'animo di provare in dosi è l'unico devo tirare il dato devo fare 10 eccolo ma c'è un solo occhio buono che dice oh povero che tenerezza che faccio in detreggio guarda il cucino guarda la mamma non abbiamo non vogliamo attaccarlo ma vai sullo culo dai non vogliamo essere minacciosi dai fatti amico l'orso bufo Roberta torna sempre utile eccetto che fisso su di noi giustamente sto spaventato vabbè ce ne andiamo ce ne andiamo va bene ce ne andiamo non è un problema e ne vede lo screen e se ci vediamo l'uomo penso che si arrabbi parecchio si arrabbia però è nascosto io vado così nascosto vai tu però io non si è già girato vai tu perché io non mi muovo da qua eccolo è cominciato il combattimento no perché si si guarda è cominciato il combattimento Roberto commence battle Robby ma non con me bro si sono nascosto e non con te ma non significa niente è comunque cominciato il combattimento Roberto Robby io mi direi se fossi in te a questo punto guarda le scuole no ok ottima mossa l'attacco aspetta l'ho abbastanza l'attacco di di nascosto si attaccano prima vai vediamo quanto è già comunque danneggiato è frusse per l'occhio 73 su 81 però guarda a prenderlo non è facile vabbè fai tu ok 60 ma che succede a me oggi va un po' strano questa nuova a me non lo prenderà mai però ti sta caricando come l'ho fatto io mi passo vedere questo potere qua così ovviamente sì devi essere immobile adesso devi attaccarla a noi vai Morwen ma io di secondo livello come sto messo un secondo metto un attimo gli incantesi non puoi curarti Robby c'è una pozzola ma non penso che faccia molto qualcosa che lo rallenta che lo mobilizza ce l'hai che lo mobilizza vediamo un po' che c'è tra le no ma noi abbiamo la chierica sei tu sei tu il chierico vabbè io lo faccio male ma più di questo non posso poi a chi tocca a me un piccolino prova da zopparlo ma 30% non lo prenderò mai infatti so perché la tizia non piglia faccio posso fare al massimo questo non ce la faccia ma aspetta se premi sul cuore dovreste avere la seconda infatti guarda l'ho fatto già guarda l'ho appena fatto mi ha letto del pensiero bravo vai io gli faccio ma perché ne vedo due perché noi siamo due ma non posso mai non posso neanche fare accidenti ma non peggio non ho una abbastanza azione niente niente ma perché l'ho mancato eh perché c'abbiamo addio al carimo no cacchio vabbè io posso solo passare mannaggia stavo messo male gli facevo una bella cosa eh per forza questo 30 di 80 41 bene è una bella mazzata sì 5 qui bello questo vai 15 15 è spaventata io ho fatto un tiro salvezza positiva al posto vai che qua si è morto attacca a me ma mi spiace però poveretta ma se moriva mi attacco d'opportunità era meraviglioso ma se ne sta scappando perché sta scappando il figlio ma non ci deve il figlio sta io sono stronzo piccolo ma che cacazzo salvatemi se no questo mi uccide attacco il piccolo e deve arrivare il mio turno per poterti aiutare attacchiamo il piccolo qualcuno mi aiuti con la il però io non posso per ora e non ho l'azione perfetto posso venire a vedere se ce la faccio ma ce la fa sì dai io non ci arrivo guarda non me lo fa fare io non ci arrivo non ci arrivo nemmeno io attacco la bestia non ci arrivo vedi vabbè attacca attacca la distanza il sì infatti quello che farò perché non voglio fare accidenti perché il valide target ma si fa il fai esco stai facendo una stessa facendo attrazione perciò stesso test ok troppo lontano di usare da lontano vincit mi hai fatto un cacchio porca miseria non va niente non va niente non lo uccide oh si ti puoi dare al carimo in relazione ma chi tocca questo tocca a me ma non mi fa fare niente ecco ah si è arrabbiata si è arrabbiata non poco avete deciso il mio piccolo ci mancherebbe qualunque madre si arrabbierebbe troppo questo attacco a me no si aia aia addio morwen la poco forza chi deve aiutare si si è arrabbiata io tocca il fatto ma vai va questo vediamo se mi uccide proprio tu con la sensazione niente ma neanche il cuore ho no no me l'abbiamo fatto niente possono passare no ce la proprio tutti si il lago di sangue ti ha lasciato si ma attacchiamolo mi stiamo asportando i vidi di tutto mannaggia sono quattro danni gli ho fatto accidenti ma dovevi attaccarlo dovevi attaccarlo in mischio vabbè si mischia ma ma come facciamo io ho il mio personaggio che è praticamente morto mi devo andarlo a salvare eh si vai l'abbia azione non ho passato e questo continuo attaccava bozza ti ha proprio ucciso va bene se poi sono morti vabbè maia ma vabbè ma sei morto caro mi dispiace dirtela mannaggia ma che cacchio non a distanza devi andare con la spada se ci arrivi si ma io l'ho attaccato con la spada vabbè no ma parla fa con me vabbè non gli ho fatto dentro lo stesso Sipia sei rimasto solo tu aiuto attacca con la spada con la spada eh la spada si quella a fianco quella a fianco quella a fianco e la freccia ma che non ci vedi no il tuo personaggio c'è ancora l'arco e frecce in mano tasso destro non lo faccio Roby no no non lo sta facendo devi premere qua dove dice toggo il weapon set ehi sono sto lì eh vabbè fai io guarda che non lo fa l'ho fatto dai è mancato no vabbè questo ci ammazza ci ha ammazzato così questo ci ammazza pure Memo no no se abbiamo resistito vai eh vaffanculo morto ti devo aiutare prima cosa prima la Ghi Tianchi poi a me no sono morta vabbè fa niente dobbiamo buttare un po' di scroll eh vabbè scroll vieni fai è inutile che ci fa i conti della serva Roberto che abbiamo fatto è andata così Roby ok siamo di nuovo andiamo a dormire sì andiamo a dormire mamma mia che massacro ragazzi il l'orso buffo faceva male vabbè andiamo al campo ah prendi i piedi prendi prima che cosa ha lasciato sì che è successo siamo bloccata pur qua sono rimasta bloccata ma pure io non mi muovo più che è successo siamo in pausa che è successo ora mi sono mossa ci ha bloccati perché non l'ho capito vabbè comunque andiamo al campo questo loco è molto strano sicuramente sì questo loco è molto strano mamma mia oh c'è il aspetto che massacro questo ci vuole parlare ma vuole fare il romantico questo tipo ma proprio con te sì ma ma non non sono interessata mi dispiace signor vampiro ci parlo io dai no ma questo questo voleva mortemi ma che ah sì certo sicuramente va bene ma quando te ne va a quel paese ma poi non ci sta l'opzione per mandarlo a quel paese esatto purtroppo no fuck off non c'è come opzione ma andata fa troppo simbaticone per i miei gusti questo quello dietro lo guarda per dire quando hai finito poi mi dispiace per il mago ma non ce lo porteremo praticamente mai dietro per colpa mia è insupportabile sei troppo vicino rispetto al distanziamento sociale signora Starion ecco sei succulenta sei il suo tipo che ci vuoi fare vabbè andiamo a dormire va sì andiamo a dormire va guarda come meditiamo bella è la forza di sangue sì sei sempre ok andiamo a vedere cosa ci cosa ci come dire misterioso qui se c'è qualcosa a parte le uova dischiuse non c'è granché di qui si scende ah è il meraviglio oh oh abbiamo fallito tutto il teore di legione servirebbe proprio un chirico ma ti sento non ti sento bene Roberto ti sento lontano che è successo col microfono non ti sento bene ora ora voglio ok sì perfetto fai tu io esamino questo scrigno si è girato dalla magia qui c'è una trappola magica e qua ci sono molti oggetti interessanti a terra fatto di vetre e coperto di oro io qua salverei eh sì a meno che non volete l'autosalvataggio prima di incontrare il nostro bufo qua parlano di due divinità questo questo tono ah ok Char e Selune sì Char e Selune sono le due l'oscurità e e la luce sì due sorelle sì sono delle divinità di ferro qui sotto che c'è la guerra che ho rubato aspetta un altro libro non lo vedo vabbè dobbiamo vendere un po' di roba abbiamo un po' di cose che andrebbero vendute pure tu siamo un inventario pieno no ma pure Roberto cioè che vogliamo fare allora che vediamo qui questa è stata interessante qui sì ti raggiungo vediamo se c'è qualcosa oh un altro tomo ma qui si trovano proprio un volume che parla del conflitto fra loro due secondo me qua dovremmo qualcosa mi dice che qua avrei voluto prendere la chirica nel party percezione un'intercezione ma dove sta figlio mi sa che qualcosa c'è 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 una preghiera dedicata al selone che implora di accettare tutte le benedizioni del maiden vostra combattente maiden fanciulla fanciulla della luna bounty che significa? se non mi ricordo ricercato no no scritto come? come bounty scritto come bounty bounty è taglia taglia proprio la taglia tira regione fallito al calimo era fatto con successo vabbè sono insegnamenti di selone vabbè chi è che chi è che si avventura ad aprire quella cosa? che ha preso lo scrivere il foglietto? Silvia credo no? e aspetta fammi vedere il foglietto con la lettera lettera profumata si quella no non è quella perché profumata è quella del tizio no quella è una lettera d'amore figurati allora mi sa che le hai prese tu aspetta fai vedere perché io non l'ho sta ancora a terra aspetta vedi un po' cacchio lo sai che c'avevo lo scroll dell'animicizia degli animali ma non credo veramente? sì ma in realtà non credo che sia un animale quello però vabbè ah prima ho restato qua chi apre? Silvia? apre Silvia? Silvia vai vediamo che è successo sarei lo scazzinatore? e laser io mi farei indietro va bene tanto c'è sta l'autosave di prima tutto il blocco che botta no insisti no 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 basta no ragazzo bisogna fare non ce la faccio non contendo della prima l'ho rifatta la seconda qualcuno grazie no ragazzi qua bisogna fare qualcosa altai ma è tu una lettera sì vedi un po' se vedi un po' se con la lettera succede qualcosa che si fa la lingua ok vedi un po' oh si apre lo sbloccato perché oh bene onyx un vabbè in modo che le faccio prendere a te così le vedono anche gli altri ok ma perché non mi fai mangiare lo posso aprire io no l'idolo di selune ok va bene roba buona cos'è roba buona l'idolo di selune una pietra un'onice e poi c'era un necklace di baltus fantastico però secondo me torniamo un attimo al villaggio vendiamo sta roba così siamo un po' voglio mangiarmi una pera e non me la fa mangiare come non me la fa mangiare no perché non va non me la fa mangiare eh roberto fai almeno cura ferite sì vieni il collezio a vedere non me la fa mangiare voglio recuperare un po' di energia non è possibile no perché tu stai facendo la dieta tisano reica ah sì per questo ma poi una pera si è detto una salsiccia un formaggio ma con una pera che dovrei fare eh no il computer non si scappa proprio ma dove stai tu no sto cercando di farmi mangiare ma dai non è orario 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 basta ma è possibile che mi libera la dieta e ti contatevi un pezzo di formaggio una salsiccia vabbè abbiamo fatto già abbastanza guai in questo luogo quindi penso che possiamo andare vai fai le in cura ferite almeno sta arrivando ma che che bella armatura che ti sei messo Roberto e riflette chi mi attacca mi do un di sei di danno radiante ma sembra rattoppata male ma ok Sivia ce la fai? sì sì ah stai mangiando ok sì sì da una salsiccia e passa la paura no no ma secondo me roperto invoca i poteri della sua divinità che non ho idea di quale sia e ti cura un po' secondo me non lo sa nemmeno lui ok diciamo che possiamo anche uscire sì sì andiamo da questo posto da questo postaccio sì abbiamo anche i veglio l'abbiamo aperto semplicemente facendo la preghiera a Selune caro i veglios e io che sono un infedele ecco perché non riuscivo ad aprirla vedi? sì tu sei un infedele ora andiamo al villaggio un attimo ma di qua si può salire? no non credo non credo e guarda ma spero sì però speriamo un po' ma spero Alberto torna indietro sì vi ho scoperto una strada basta che vi girate a destra si sale sì 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 ma volevamo sinistro o destra? volevamo tornare a sinistra a sinistra andiamo a sinistra adesso torniamo al ponte che vi dà la mappa e vedo che si torna al ponte ma è il luogo della strage di prima ma salve signore salve signora guardia sì 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 così interessanti qualche soldino che non fa mai male ecco al Calimon con la sua armatura splendente da che parte siamo diretti? compagni? noi volevamo tornare un attimo al bilancio ok fate strada e spesso ho parlato con questo tipo che è un chiacchierone a quanto pare ma li becchi tutti tu prima il vampiro poi questo ok fatto andiamo via sei troppo affascinante Morwen effettivamente se incontrassi pure io signorina Morwen due checchier ce le faresti anche tu vabbè a parte che è un ilfo quindi sicuramente non sarebbe non trascurate mai quello che possiamo incontrare lungo la strada qua ci sono tantissime cosine interessanti questo backpack l'avamo già trovato sì penso di sì no no sì bello pieno di cose bene io sto tornando sto tornando al villaggio eh fai bene fai bene perché adesso stiamo andando andiamo a vendere sì diciamo siamo pieni di roba mi sa che mi sono perso l'ingresso ecco eccolo qua ho fatto il giro largo eccoci anche la solita strage che non si toglie i cadaveri non li si esterniscono qui eh non si usa salve i corpi e i banchetti no ah già raga no ma che stiamo facendo ah no sì e noi noi non possiamo farlo ho detto una cavolata abbiamo fatto una cavolata perché ecco perché siamo pieni di roba ragazzi perché non possiamo venderlo a nessuno la roba ecco bene dobbiamo comunque proseguire se no la dobbiamo posare al al campo a Silvanus a Silvanus non possiamo lasciarla no perché non c'è più nessun mercante dopo la strage che abbiamo la strage che abbiamo causato noi sì quindi dobbiamo proseguire magari no è inutile vieni Roberto dobbiamo no no roba perdiamo solo trent'anni almeno andiamo avanti se no non ci ci fossilizziamo sempre qui diventa un po' noi chiuso se poi torniamo al torniamo però ti sento sempre male d'altra volta di me ora forse mi sento esatto vediamo un attimo qua sennò qua non andiamo mai avanti spero aspettiamo lo che sta un po' indietro sorridone dobbiamo cercare un mercante sennò qui ci riempiamo di roba le pisacce comincia a pesare tanto qui avete già visto qui sulla sinistra c'è un ingresso secondario volendo saltando si può entrare da sopra error no che c'è un altro fuori un altro connection time out a tutti si vabbè tu c'è il gioco salvato giusto no a me non è successo niente ragazzi tu sei scritto teostro vabbè vi sto rinvitando eh grazie si boh forse a me la connessione non ha una chiavita forse è proprio la mia mi ha persi boh che non ce la vedo un po' strano pure il telefono di casa ha fatto un po' di pizza oggi ok sì penso si vada tutto a posto ok funziona vedete un po' sta caricando ok che già li ho inseriti sta caricando due partite quindi sì sì sto aspettando ci siamo ci siamo allora dunque qual è la prossima mossa Roberto che stava facendo non ho capito allora c'è la possibilità di entrare da dietro senza passare per il cancello principale ma voi ha caricato ancora un po' di scherzo infatti perché vi vedo sempre con le stesse pose mi ha messo intanto morwen si ne approfitta per guardare il panorama che è molto bello ok perché siamo tre non siamo tre session siamo quattro eccoci qui andiamo tutto a posto ci fa strada vediamo dobbiamo metterci nascosti che ti vedo tutto no ci nascondiamo tutti diciamo questa cosa stento bisogna saltare bisogna fare qui sì sì c'è qualcosa qua su mi hanno visto apposto e quindi? e quindi in combattimento ma come combattimento? mannaggia ma ogni volta che facciamo come aveva detto The Turris c'è un goblin che è nascosto qua sotto ah ecco non è partito in combattimento ah ecco che quale ci ti ha visto e noi siamo ancora in hide però aspetta raga fermi non fate niente e chi ha parlato? no perché ce la sto parlando con la govelina qui sopra io non voglio problemi cari govelini lasciatemi passare e non vi faccio niente e non vi faccio niente vi faccio il tiro di ilitido coso che tanto non si può fallire non si può fallire è un po' barare come fa il coso del Lilith solo che i gobelini a quanto pare sono suscettibili a questa cosa beh? che è successo? niente, voi state merando? non lo so ma tu stai? ma tu dove stai? se tu stai merando non ti vedo come non ti vedi? sei entrata in casa? no, mi ha sposto tutto dall'altra parte ah, andiamo bene mi sto raggiungendo ora noi siamo qui dove ci hai lasciato si, 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 vi sto raggiungendo ho fatto tutto il giro allora, questo è un bug che deve essere risolto sicuramente che il gioco in pratica mi ha sponato di tutto un altro punto del villaggio poi ti ricercavo in casa si, per la cosa bella che il gioco dice, ma perché vi fate il giro quando poi dovete parlare direttamente al portone principale invece no dovevamo fare il giro volevo entrare qui nascosto e a quanto pare non serviva anzi era meglio entrare proprio tranquilli che tanto il gioco questo vuole se ci hai fatto caso esatto vabbè anche perché proprio oggi come oggi abbiamo fatto molto schifo queste cose dello stealth che che ne diceva De Turris che lo stealth era potentissimo ricordate diceva che no ma funziona ma devi sapere lo sarebbe no funziona se c'è un personaggio che è improntato sulla furtività non noi che siamo un gruppo e noi infatti noi non lo siamo decisamente quante cose interessanti qui questa no ho preso una stronzata scusate chi hai preso? ho preso una cassa vino 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 si ma stiamo depredando questo posto no voglio capire cosa sono lo lasciamo ai goblin scusami no e allora oh c'è anche Eddie che ci sta Eddie teschio non si chiama è l'associazione ah io sono sceso giù vedete qui ci sono delle scale ragazzi si vede un dungeon qui dove sto io bene non è questo volevamo venite a venire a vedere sì sì arriviamo arriviamo da qui c'è questa questa è una battaglia che mi hanno fatto vedere in qualche via di anteprima addirittura figurati quindi ragazzi seguimi mi sarò scendo solo io qua non so dove sta l'ingresso c'è una botola sì hai visto? eccomi arrivo non capisco perché ogni tanto mi si blocca eccomi qua due pozioni non capisco mi sembra un luogo tranquillo sembra lo studio del farmacista che lavora sembra ma sto trovando funghi erbe eh ma tutto tutto abbastanza si è una specie di dispensa tutto abbastanza c'è normale io continuo a depredare vabbè ma vediamo qui cosa c'è per terra nulla ah c'è una bella wooden chest che hai trovato belle pozioni bene ottimo piglia piglia lo studio medico in pratica sì perché questo è il farmacista ah doctor's log vediamo un po' paziente che bello occupazione di large sprint niente paziente sono tutte cose occupation vabbè niente di che sono effettivamente il diario di un medico questo è il medico del paese ma gli erbe medicinali insomma non è che c'è molto altro ah io ho fatto un diario di investigazione fallito vieni qua Silvia bene eccomi clicca su questo armadio qui che sembra un po' il mobile dell'associazione è andata a buon fine che hai trovato? mmm pozione per parlare con gli animali piglia piglia comunicazione con gli animali ottimo bene questo è ci piace ah questo guarda qua faceva pure il distillatore che belle cose poi mi rubo tutto vabbè andiamo vabbè niente di che in realtà in questo dungeon meglio di niente però la buzione l'ho trovato interessante no no sono tutte figure di tutte interessanti ok possiamo tornare il suo va sì sì Roberto però non è più sceso infatti vabbè ma fortunatamente non era niente di pericoloso vabbè siamo fuori? sì ma adesso andiamo piano che si complina e mi inquietano allora andiamo nascosti no vabbè nel senso piano 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 senza senza farli cosa è questo ah ok abbiamo trovato un un portale quindi il fast travel funzionerà al momento opportuno che sento che sento ecco un pover in occhio no ci sono dei dei troll dove? e se li vedo io da qua guarda sì ma sono ma sono tre Roberto Maso esatto sono Roberto Maso e ragazzi io ci devo andare a parlare con Roberto Maso Roberto seguite andiamo salve disturbiamo ah c'è un bel bello dialogo con Roberto Maso e qui chiamo sì sono i testi i dialoghi del film sa di pollo esatto no sa di maiale questo mi sembra molto intelligente però trovo uccidiamoli ha già detto la parola gente guarda che cosa abbiamo qui ma guarda come è simpatico questo troll oh c'è Ed presente sì sì sono amiconissimo dell'assoluto tranquillo io sono l'assoluto ma c'era fuori tutte le serie io speak sì vale molto bene per la tua specie ma quanto è bello questo troll non possiamo metterlo in squadra io sono una delicatezza effettivamente sei un bel bocconcino sì caro signor troll mi butto bello mi piace o gli dico che non ho questo ma Roberto perché stai camminando tutto intorno stai fermo un secondo e qui ho paura che ci scappi anzi se nel caso posizionati bene ecco bravo lontano vabbè io provo a fargli deception bravo però è 10 ma io non so infatti no roll again è una prima volta che lo vedo perché ok fallito va bene mostro la tua carne io direi attack questa è la mia carne è ora di cena ragazzi si comincia signori cosa mi dice dobbiamo occupare prima con lo intelligente allora io ho visto che c'era un fatto da percezione su questa trave anzi questa colonna in questa trave la colonna che sta a sinistra per troll dovete coprire questa valonna ok la spesa la spesa quale anche prima guarda il troll a sinistra metti che c'entavano dietro il troll a sinistra c'è un tavolo sì che devo fare ok c'è una ma 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 c'è una scusa pochè bisogna trovo colpire ma io vedo un masso più che una colonna se vedete c'è una ma c'è una colonna no una trovi legno il palo il palo che devo far colpire sì sono le case sei proprio sicuro di questo io salvo io salvo salvo brava perché non lo so questa cosa non capisco sono passato vicino ha fatto percezione su questa su questo palo dice che è un po' barcollante ecco grande ma non si è fatto niente però qualcosa che abbiamo fatto due danni si è fatto gli facevo molti più danni gli facevo molti più danni vecchi ah beh faccio action su giocino attacco io lo faccio facciamo molto più danni normalmente lo so è colpito con la destra ho capito un cacchio abbiamo fatto due danni ecco lo mannaggia ecco funk ahia ho avuto il blocco mi ha fatto due danni pure a lui allora facciamo scivolare con questa lancia di pietra no ma tu già stavi malino no no sì sì già stavi malino silvio e quindi non ho fatto niente ho fatto due danni a me non a te ah ok vai a cali ma chi tocca sempre tu qualcosa che lo acceca qualcosa ma che fagli male tu puoi dare sempre sta cecita ma fagli male che noi abbiamo fatto ancora niente ma io provo a cercare a questo va bene è stato anche parato ok ti ho detto facciamo facciamogli male vabbè me lo ha salvato ma tocca l'altro accidenti beh hai capito al calimo si vai gli da non serve salvo salvo salto il turno innalcia tutti con me se la piglia perché lo sanno che sono io che c'è parlato tu lo sanno che io faccio ma io attacco a questo al capoccia cosa ragazzi attacchiamo tutti si attacchiamo tutti uno preso però fa un culo io me lo sveglio un po' con la un po' i danni ero fatti io me lo sveglio dietro qui grazie oh ma con la mia che cosa vuoi che ho fatto mirror image bravo sta lanciando anche gli incantesimi sì ma come fa a fare tutte queste azioni vabbè vabbè ammazziamo comunque sempre il uno 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 che tocca adesso non me lo fa fare c'è chi tocca a me perché mi hai fatto a qua vabbè devo sparare sempre ma non è diciamo perché siamo davanti siamo davanti vabbè e devo passare turno cioè questo qui abbiamo fatto abbiamo fatto 20 26 danni in 50 di noi questo è ciecato no non è ciecato no è solo zoppato certo che però agisce come se avesse varie memorazioni mentali perché se davanti non posso più scappare nemmeno grazie attacca scusami ma non posso attaccare mischia ma come ma si attacca su mandagli buttagli in gare in gare sia più potente che si mi non posso buttare ma ci spostiamo quando toccano io volevo andare in mischia ma ho trovato la gente vai attacca ai 14 vai vai aia ci viene a prendere aia ci ha fatto un po' male e non mi fai spostare in più mancata è stato nell'angolo tocca a me tocca a me non tocca a me no sto giorno se tocca a te ok mannaggia no 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 vabbè mazzo io mi sono messa nell'angolino grande fuori arrivederci allora come si contorce ma la parola è bene giustamente morta morivo l'aiuto si si aiuto si che forza grazie sono grata buon amore ma noi purtroppo abbiamo fatto molto schifo al primo round fatto due danni mamma mia al calimo attacca un po' sono curato ah ok ah ti ha mancato ottimo e sono anche salito sulla pitra grande tocca a me chi becco questo qua per forza questo figlio è in drocchia gli ho fatto un cazzo non gli ho fatto accidenti c'ho un'altra azione aspetta no ho chiappato tutti quanti con questo vabbè no vabbè faccio proprio schifo niente due volte colpito due volte mancato no comment e un po' tutti quanti gli scroll no armatura magica resistenza guiding bolt silenzio mi sono riuscito a mettere lì dietro uh no vabbè fa niente se riesce a salire sopra no ormai mi ha fatto una cavolata e mi posso tirare il banco di reng no eh e magari livello su kill e mi ha beccato pure lì dentro ti ha fatto tutto l'acido bastardo chi tocca a me a chi anche mi ha parato il menacing attack i 13 danni che l'ho fatti ma che vuol stu goblin vabbè anche lui vabbè avrà il suo il coprino io sto bruciando prendere l'acido no vabbè l'altro che si è fatto alcalivo tre danni gli fai attaccando hai finito gli ingantismi che stai facendo penso sono sconfano la qualitrice sto curandovi seri bravo ok grazie ma non ci stico pure i goblin in merda mamma mia maledetti vabbè penso sono solo sti due in realtà ottimo che ti è mancato e ora devi morire adesso ho due eh ma ci penso sempre la mia maga cioè guarda caso cerca di tali riesco a su se ci riesci di dietro c'è una scala vedi dove dietro questo no vabbè ho finito il movimento comunque non posso usarle quindi mi sono incatastrata lì dietro mi ha fatto sedere salta ma che stai facendo lì? ho messo jump per uscire perché mi ero incatastrata lì attacchiamo tutti questo qui vai con la spada più vicina passo l'est passo allora Silvia aspetta vedi che il guerriero in basso a destra dovrebbe avere negli attacchi un po' diversi tipo il menacing attacco esatto questo lo butta avanti il pushing attacco perché più nel passo adesso fatto nel gioco il pushing attacco lo butta in più avanti il menacing lo fa spaventare quindi vedi un po' il menacing vedi un po' il menacing vedi un po' se lo becchi no sempre con l'arco l'attacco e l'avevo selezionata la spada invece facendo così vabbè comunque gli hai fatto malino vabbè sì sì chi è? no un altro gobelino ma che palle ci abbiamo tre goblin con il culo ai questi goblin fanno più male dei troll infatti ah che bel salto che fa eh mannaggia io ci arrivi no non me la fa proprio attacca mi fa attacca per forza una di queste cacchio di non fa proprio niente vabbè aia ah ah e ti è mancato e ti è mancato ma che sta a fare questo vabbè che sta a fare i goblin aia no 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 ti faccio mi sposto mi è vicino vabbè che sono mezza morta vedo se posso curarti vabbè mi hai curato mi hanno capito vabbè sono solo questi però ok bravo che palle mancato ok sto comunque in alto qua non lo uccideremo mai ancora un altro che sta arrivando ai robbie hai preso stavo l'acido stavolta ho visto ho visto ho visto che ha rotto le palle a me mannaggia mi muovi a botta con sto strozzo mi dispiace caro goblin si fallo fuori a quello che sta là grande uccidi pure quell'altro che sta dalle spalle tu e là dove sta le mie spalle vabbè io mi muovo verso di questo perché tanto uccidio questo goblin del stavo si è curato maledetta ma è quasi morto apre peccamente ecco appunto no ma veramente dai ma pure con lo spadone a questo mezzo morto non ha parole questo è tosto non ha zotto vaffanculo che è successo non ho mancato io ci sono coperino qua dietro si ne arrivano altri no è sempre lo stesso vedo solo due goblin ancora quello là soprattutto è quello con 6 punti ferite tocca la chitianchi si si mi ho imparato pure stavolta ti uso a mezzo forza scrivi ammazzami questo vabbè se no mi ammazzo io mannaggia questo ci ha fatto un sacco di danni lo sto attaccando tu perché se no Silvia lo sto attaccando tu a questo si si ok vai come ho messo la spada accidenti no hai usato la spada per cui mi rimette l'arco quando ho messo l'attacco speciale perché Silvia calma Silvia perché se vedi gli attacchi speciali sono sia con l'arco che con la spada tu hai selezionato quello con l'arco questo è il fatto è solo quello come me ne singo sono quello no 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 sono sia con l'arco che con la spada non sei mai cerca su spremi come è sta sopra e sotto devi spremere tipo N esatto no no ho capito vabbè lo ammazzo io questo se no ci ha fatto già troppi danni eh grazie mi sto cercando cosa posso fare con questo critico eh mo stiamo a 50 contro 1 se mi attacca a me sicuro si va bene attacca quello che vuole e mo non lo intorniamo chi tocca? a me Silvia ti passo una cosa si aspetta devo trovarla si ecco ti do il veleno della viverna cliccaci con sta nel tuo inventario cliccaci con il suo uso dovrebbe applicarsi il danno all'arma da mischia ehm ci ricco con la testa ma no che dice? nulla la boccalla la pieghi ti anche allora ti tesi sopra? niente come l'ebbiamo metti la spada aspetta ci riesce a andare come no come non può c'è l'antiroma la fa mettere la spada sparala comunque tanto dovrebbe applicarsi anche all'arco non è abbastanza azione ah vabbè fa niente prossimo turno forse perché si ha spiegato ma quella è fortissima ok tocca a voi ragazzi ma si che faccio lo attacco o vedo qualche modo per salvarti no no attaccatelo prima vabbè un po' di danni io l'ho fatti ma si è fatto quasi niente vabbè ho fatto otto danni perché l'è mancato si l'è mancato si l'ho mancato si l'ho colpito insieme l'ho colpito io l'ho colpito tu ok io ho messo pure il vereno della diverna no vabbè ma dovrebbe dovrebbe essere ancora attivo il vereno si chi tocca a me aspetta un secondo il talco sto scemo di un coppito cambia scocciato è ancora vivo lo stronzetto eh vabbè non per molto mancato mi ha ridotto a uno mi ha ridotto in fin di vita vai vai eccomi qua ma non sapevo che dovevo usarlo io indecisione comunque Silvia vedi che come azione bonus può anche bere una pozione eh l'ho dovuta prima ah ok io sto bene quindi mi sa che vabbè ti sa ti aiuto ti aiuto già sta roberto a terra tra poco muore però no niente perché ti sei mossa e c'è il fuoco vabbè aiuto con l'armi del fuoco eh ma siccome ti fai danni vabbè vale la mia azione sono sprecata io devo ammazzare sto strozzo vabbè vengo a salvare il roberto se ce la fai ce la fai no vabbè attaccherò lui sì 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 però attaccarlo no vabbè io col d'arte incantato lo piglio e basta ti è mancato meno male ma che cazzo tutti quanti li fallisce a me ma vaffanculo ah o no l'ho fatta con successo ma normale guarda si è tanto il fuoco tu sei morto un'altra volta non si è morto non si è morto non si è morto non si è morto come era mi dovevi venire a salvare ma io mi sa non lo sai che le ragazze ce la fanno da sole meno male che lui ha mancato quello allora questo qui ma c'è un punto ferita certo capito ah ci sono ma qua ci sono ma c'è un po' di ammazzati tutti con la maga vorrei solo dire questo vorrei dire solo questo solo con la maga vado con altro giusto un altro l'uccito un altro altamente non fa niente non so adesso sì che però ti ho ucciso questo strozzo prima mi devo rialzare un'altra volta ma andate eh non lo vedi da poco fa che sono rimasta così non mi sono più alzata di nuovo c'ho il dilemma che faccio aiuto Roberto sì vabbè aiuto 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 Roberto che ha due tre fallimenti però sei sul fuoco è praticamente inutile aiutarti devo bere aiuto ma devi spostarti e chiappi l'attacco d'opportunità no faccio prima non aiuto nessuno perché te è proprio inutile aiutarti perché vuoi aiutare il mago sì vedo di aiutarti col mago ok se sei ancora vivo falla fuori a sto stronzo 11 11 danno critica al miss vabbè ti aiuto mamma mia io bevo una pozione se posso no sei di nuovo in giù vabbè però lui attaccherà sempre me perché ce la commi non so vai attacco affanculo è morto il maledetto finalmente aiutatemi aiuto aiutateci grazie aspetta short rest ok bravo che bel combattimento però mi sono divertito tantissimo io tantissimo mi sono divertito parecchio sì con i coperini che sono con i coperini che sono venuti a aiutare ma tu mi devi spiegare che ci sei quello per me in range mi devi spiegare queste cose perché se io qui non le vedo perché non le conosco sì abbiamo si diventa di occupare tanto noi no però perché se so come funzionano le cose le uso sì 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 vabbè adesso abbiamo abbiamo l'occasione di vedere così che c'è aveva sta gente allora addosso spero di soldi berthomaso è quello troppo intelligente per essere diciamo scorte di cibo di tutto e mangiamole così ci ripieghiamo un po' ma nei libri niente berthomaso qui con i libri faceva solo finta comunque era un buon ma era un mago di livello massino però va bene lanciava la freccia acida di wealth mamma mia che strage ragazzi io sto bene beh mangiavi un po' di roba allora voi ho già fatto andiamo piano piano ho recuperato la forza vediamo stai bravi vedi stai casse di nulla questo gioco incita la creptomania mi piace comunque comunque ci sono un po' di oggetti che si possono indossare questo caso mi inquieta non poco secondo me crolla se ci vado sopra ma io zompo di tianchi non mi seguire vado a vedere là che succede non serve a niente questa cosa sto in un bellissimo punto una rompe ma non non capisco perché hanno fatto gli sviluppatori hanno fatto questa rompe così senza alcuno scopo però molto bella sì solo un fatto di l'estetica è bella però molto bella sotto che c'è un carretto schiattato ok sì di qua non c'è più niente giusto? no no nulla blighted pillage bel posto pieno di troll e goblin che scorazzano liberi alle grazie a quella no qui non ho visto in mezzo alle casse che stanno qua dove sono i goblin un po' di razziamento una corda beh diciamoci da comunque la grafica resta sempre interessante dobbiamo cercare un sì però ragazzi sì tutto quello volete ma io non ho più incantesi dobbiamo tornare a dormire quando la scampa a dormire perché proprio sono si è arrivata stella frutta comunque qua ci sono delle delle casse dove possiamo usare una roba delle casse sì una roba pesante tipo l'armatura l'armatura li togliamo le mettiamo nelle casse sì infatti faccio la stessa cosa la scimitarra pure la metto via il mio vecchio pastore la metto via ah questo tu c'hai qualche amuleto sì pulito c'è un sacco di premi tasto via c'è qualche amuleto tu io ho l'anello no l'amuleto oltre al collo oltre delle preverenne vedi un po' se c'è no sto guardando no non ne ho aspetta non ho nulla velo mostro aventi mettiti questo oh grazie quando è esatto bravo allora poi cosa altro abbiamo questo no c'ho verdure varie eventuali qui io mi metto il cerchietto tra i capelli pozione di velocità bene tre belle bottiglie di vino che non fanno mai male Roberto tu hai trovato una cosa che aumenta l'intelligenza a 18 vediamo sì io come sto messo intelligente ce lo sto dando aspetta no fa vedere io ce l'ho a 16 quindi sì mi conviene mi potenzia un po' tutto per quanto riguarda il mago prendi prendi ok e ti do quest'altro dove sta per averne un ecco quello che va da uno più uno al tiro di natura ce l'ho già indossato ah è ok allora danno a Silvia sì ma lei non fa una bella serata ma qui tutti quanti dicono che c'è sempre una bella serata ma che bella serata sì sì tutta filosofia va bene devo dire che per quanto riguarda la lore di Forgotter è molto ben inserito quindi hanno fatto un buon lavoro da questo punto di vista ciao sì va bene andiamo a dormire avete fatto sì sto ancora forzando un po' di roba che ha fatto Will e la Chirica non so che fine stanno ancora al paese chi Will e la Chirica stanno sempre al paese ti ricordi stanno seduti lì al paese ah Shadow Heart forse eh Shadow Heart e Will stanno sempre al paese perché qui perché ci sono due personaggi in più rispetto al gioco base probabilmente con il multiplayer capito vabbè a posto va ecco la nostra solita posizione meditativa poi c'è un'altra cosa che forse non sai te la faccio vedere nel gioco che è successo no allora ti faccio dire eh se ci avviciniamo ho qualcosa che ha acceso qualcosa che è acceso sì una torcia o qualcosa ti faccio vedere una cosa aspetta se la posso fare da qui metto una candela a terra se ci sono una candela accesa ok la trovo drop allora se tu la vedi questa candela accesa a terra sì ok ci sa nelle bonus azioni quella tasse che si chiama dip clicca dip e vai sulla candela in pratica hai l'arma che ha un danno aggiuntivo di fuoco ah perché ho capito se c'è un qualcosa di acceso tu come se tessi fuoco alla spada alla come si chiama torus di mir se tu vai sulla vedere sulle caratteristiche dell'arma per un breve periodo c'hai questo extra danno di fuoco eh ma mi sa che servire un combattimento è complicato sì sì questo sì però vabbè io posso mettere a terra la candela e almeno per 3-4 azioni possiamo combattere con l'arma di fuoco capito questo può servire per esempio quando ci sono le fiamme vabbè comunque ci sta un forte assortimento di gobelini qui io ho paura di entrare qui usate le frecce vedete dove stanno si stanno divertendo ai danni di qualcosa non capisco cosa stanno guardando ah ecco stanno giocando vicino al mulino non capisco che stanno facendo vabbè andiamo a vedere oppure lasciamo perdere questa zona ci facciamo infatti nostri no nel senso se andiamo tutto intorno la ignoriamo un attimo questa zona c'è il quale work come il e diverse e do work questi mi sa che fanno un po' aggirati roberto vediamo un po' io ho fatto un attimo un'investigazione nel pozzo l'ho superato clan abbasso il secchio eccoci qui soggiune puzzolo di spesa di servire survival fail ma scheletro c'è cose ha trovato uno scudo che bello non c'è altro poi no si prosegue no io non vedo niente non vedo tutto buio aspetta qualcuno c'è la luce forse il meglio perché è tutto buio pesto ok ora un'ora per più comunque c'è questo cadavere che è rosso però perché è rosso allora attenzione qua ci saranno i ragni se tu guardi sopra ci sta questo spider silk cocoon che non va toccato che non va toccato perché lo vedo no infatti è rosso io non lo tocco ci sono ragni sicuramente e pipistrelli è pieno di pozzoli non so di che livello sono però si ragni ma in realtà ho visto che il gioco mantiene sempre il tuo livello capito cioè livellano con te non toccate queste cose rosse che se no c'è un ragno fase più avanti due ragni fase è un Hector Cup ma perché siamo scesi qui sotto? non so l'avveruto si è intrippato col pozzo comunque è pieno di bestie qui sì vabbè noi che dobbiamo fare non siamo avventurieri? sì ma avventurieri vabbè il nostro obiettivo è quello non è quello per uccidere le bestie delle grotte vabbè che vogliamo fare? attacchiamo come al solito ci vediamo? io ve lo faccio una cosa aspetta cioè mi dispiace ci hanno visti e ci attaccano bene ok ok chi è tutta? oddio che? che? ma che è sta cosa? niente niente tranquilli sono io sembra ti giuro un pentolone con un essere dentro no ero io che la mia caratteristica che posso portarmi davanti a me le bestie stanno lontane tocca a me spesso decidendo cosa fare ma non posso acchiappare nessuno da qui cioè questi ci hanno visti da lontanissimo vabbè non posso fare niente quasi quasi se avessi la la candela qui c'è sta la candela eh lo buttano a terra ma non la vedo ah eccola qua l'ha acceso bene ottimo bravo bravo ragà Aris hai fatto che lo ha detto che ne sapevo raga che faceva sto effetto abbiamo scoperto un'altra cosa un po' me la dico intanto mi faccio comunque l'hanno infuocata dai col tasso dip però riuscire a muoversi da qua si adesso potete muovervi solo che ci siamo fatti un po' male è un modo per liberarsi dalla loro vabbè faccio una cosa d'acqua dai così mi ci bagniamo un po' vabbè il ragno fase si è spostato questo era un brutto tu hai salvato aiuto no non l'ho salvato perché non mi aspettavo mi aspettavo sto casino qua sotto no ragazzi non mi riusciamo pure mi posso muovere quasi non muovetevi che faccio la cosa dell'acqua facciamo se l'acqua fuggiamo cioè dovete passare eh sono troppo ehm combattimento che non possiamo vincere purtroppo sono troppi stiamo volendo lentamente non devi fare la magia dell'acqua io non posso farlo se non posso ragazzi ah grazie è ma 33 anni tutti quanti più forti di noi si scappiamo scappiamo funciamo è un amico al di là della vostra forza funciamo che ti pareva appena è sotto il 50% non c'è poco manco manco per il paio io non posso muovere perché mi blocchi chi ti blocca se vuoi tornare indietro aia aia a me mi ammazza a me mi scappare eh ma come fatti meno male no vuoi sei raga purtroppo mi sa che dovremmo tornare un po' indietro vai rivolze che ce la facciamo dai ma io se mi atterrono come facciamo ti cerco ti curo al prossimo turno no mi faccio la cura di mostra avvicinati a me non posso muovere perché è un po' che è passato scusa mi ha sbagliato un tasto ok ma c'ho quattro mondi ferite ragazzi ok non posso avvicinare deve passare prima Claudio se no non puoi farmi ecco lì ero buttato la cosa non ti preoccupare tu quanti punti ferita sai tu? io sto a quattro tu stai a undici ok grazie eh ma Roberta si è no Silvia si è o raghi tianchi no eh troppo jump meno che ho detto ho detto jump pannaccio sono arrivata a casa ai piedi hai un terreno difficile sei rallentata vabbè tanto di questa non ho paura in realtà ok ok non posso far niente più ora questi ragni fase sono fortissimi mamma mia che botta cosa se non è una fuggire basta hai visto e attaccherò tutto a me non puoi in attrazione e non fa niente abbiamo due personaggi bloccati no perché non l'ho salvato dopo abbiamo perso solo ce la possiamo fare a chi tocca cosa fare per niente mi sono spostata non posso fare più nulla sono quasi se ci abbattono non riusciamo a fare niente non potete lasciare mio personaggio lì così allora io posso aiutarti un attimo aspetta ti faccio così che hai fatto? niente mi sono mosso non sei pure l'aiuto io il mio personaggio comunque tu vai 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 c***mi del caso che mi ha ci schifosi non posso muovermi che c***o eh lo so quanti puoi muovere curami almeno che sto a un punto ferito invalido target perché? se sta troppo lontano che tanto mi riattaccano e mentre qua vabbè tanto non ne riusciamo bene si così posso scoppare ma ti puoi muovere non posso muovere sono bloccato ma ci ho detto come è possibile fai il dash aia c'erano proprio con te lo sanno che sono più tezzo come fanno a sapere i ragni così intelligenti che sanno chiesto il personaggio più tempo che aiuto ma ragazzi scappa scappa non riusciamo perché questi continuano a attaccare me capito quindi inutile usciò torniamo a prendere dopo ciò che riesco almeno uno fuori capito che possa muovere poi cerca di scappare di cose e non posso rimuovere aiutato lei ha fatto l'azione nascondisi e poi no perché sono stata tutta illuminata come cacchio faccio rispetto al passo ma il pozzo sta qua vicino sta vicino e robbie non posso neanche muovere perché se ne sta avanti tu solta ma quando saranno i turni con me ma sto sempre un punto ferita quindi non mi attaccheranno e rata come ma che c'è fatto niente non lo vedo se posso fare qualche altra cosa aspetto ma la vostra che ha passato una volta io pure una mazzetta a questo io la voglio dare sono quasi tutta salute regola che ti anche sono agilissimo non ho manco subito un danno perché non è saltato non poteva soltanto non c'era blocca ai e c'è poterla in giù non dobbiamo solo fuggire ma e stiamo cercando di fuggire da un po abbiamo scappo mi spiace finito stronzo che c'è un attacco di opportunità però non fa niente se la fai sì ok tu sei fuori a posto al carico scappa no morto al carino ma d'aiuto siamo che ti anche è fuori cilenti qui anche che fa visto che sta fuori e anche noi la maga che è stata su ma questo modo cittano lo sbagliato ma perché non mi sono vanno no grazie che sono adattato e chissà con ieri ci siamo ti circondano e di salvo e così dire ammazzano perché te l'ho circondato ti posso aiutare ti aiuto aiuto ma come hai fatto che stai quello che stava più in disfio verso tu eccolo va va bene ti preoccupa va bene ti aiuto io no vedi di scappa anche tu no e poi che risulta ascolta mi scappa e loro si sono se ne sono andato intanto tu puoi fare non è vero tu fai il disimpegno non posso fare niente può fare niente allora posso sicura posso fare un po di costo posto posso bella porzione la porzione ma non ne usciamo più da questa situazione perdiamo solo un sacco di tempo va bene vai ok l'ho presa e non posso fare più niente che faccio qualcosa qualcosa che opzione era c'era solo il personaggio da ghi tian ho beccato pure me no critical miss ti ho mancato di grande la verosa moto ha preso ora mi ha preso senti ma se facessi un scappa scappa sicuro attaccalo e scappa si non è male non è mai fatta la propria stai che è successo 11 anni che è successo il sposo a un attacco d'opportunità raga pure sto morendo ma scappa anche tu su ero come faccio posto in mezzo a tutti questi mannaggia ma io non posso manco più scappare perché questo ma attacca trovo ok continua a scappare no vede te l'ho detto perché ti ha fatto la ragnatela te l'ho detto questo l'hai fatta apposta sta cosa per ucciderci niente posso attacca sto stronzo attacco quello che è a 13 magari eh no non posso attaccare quello che è a 13 niente ho detto ma ho perso sono tre ore sento la serata colpo il fatto che l'ho salvato è un'avventura sì ma ora dobbiamo aver fatto tornare indietro ma almeno sappiamo gli errori che abbiamo fatto per ripeterli forza caricare aspetta scusi ma vediamo che succede ma che succede prendiamo solo altro tempo ragazzi allora qua se ne vanno quindi quindi se ne vanno ok ma devo buttare altre due ce l'abbiamo prima di tutto sì sì ce l'ho io addosso qualcuno a me è morto nessuno vabbè spieghiamo altri soldi faccio no mi bevo un po di pozione non c'è nessuno giù ma con questo è un guaiato mannaggia non puoi sempre divertirti vabbè ricordami che di non seguirti mai più in queste idane mannaggia come sia quello dell'orso gonfo che questi vabbò andiamo a vedere se riusciamo a salvare tanto c'ho gli scroll sì ma poi tutto a posto andiamoci a questo posto e non giusto ma poi gli scroll sono finiti ci rimane uno solo quindi o troviamo qualcuno che li vende aspetta 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 puoi fare uno short rest fai salvo a nuovo ok così facciamo una aspetta perché sta ancora qua sì salvo a nuovo aspetta di quale devi morire è vero che ti accade se facciamo proprio schifo ci sarà ci sarà un speriamo un mercante facciamo un short rest eh non basta raga dobbiamo pularci un altro po' eh sì io so 19 su 20 va bene sei tu che vuoi due e la mia dopo la mia ci faccio il second wind ok io so abbastanza curato voi due invece state ancora malino non sapete se la sbronza come la sbronza roberto dove stai andando non te ne avventurare ma curatevi mangiatevi qualcosa ha mangiato l'impossibile un sacco di patate intorsi di Silvia finalmente vai 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 mangia mangia patate a palla vai ok eh ma Silvia sto sempre a 20 ok che hai mangiato? una bella feta di formaggio bella ricca di energia ok andiamo avanti dove avevamo interrotto c'è un bug beer bambino c'è un bug beer c'è un bug beer c'è un bug beer che dorme ah c'è un bug beer che dorme c'è un bug beer che dorme che faceva gname 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 il bug beer mi dice solo di ucciderlo cioè non mi da altro ma no però no o esaminò a tavola lasciamo stare sono tranquillo ma perché la fai e uccidilo allora no salvo stavolta stavolta il sabato muovo ragione si 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 ma non attaccare tu gli fettici ho mai detto quello stava dormendo grazie di Dio e tu devi rompere scatole ok morto dal sonno alla morte dal sonno eterno c'è un anello via via è tutto mio quando moriamo basta accorto che oggi abbiamo usato tutti quelli vedi che l'altra l'hai rimasta dito non è legata al tuo personaggio dove sta ma va bene è rimasta davanti al pozzo non è che abbiamo fatto i chilometri questi goberini mi inquietano lì non avevamo un bel combattimento venite qua dove sono io che è successo c'era qualcosa dentro la porta urlo gutturale aiuto come urlo gutturale eh si qualcuno si sta qualcuno qualcosa si sta divertendo ah stanno scopando ehi c'è qualcuno apriamo vediamo che succede c'era un bugbear che scopava con un ogre no vabbè stai curiosa attacchiamo prima il bugbear che c'è 29 sì sì ok ma se li butta una cosa di fuoco là dentro non lo so tu sei vuoi sempre fa queste cose smart io capisco solo in gandese umori da adesso una freccia venata di acido di tiro ma lui o lei a lui a gru coq e li stanno attaccando prima a lui lo è avvenenato sì no è acido non è avvenenato aia questa fa male secondo me ma perché gli attaccano sempre a me managgia cioè tu sei belle figa e lei è il cesso ma noi possiamo fare anche qualche altro incantesimo tipo di charme la possono sciarmare a quella la charme in questo momento non abbiamo incantesimi che facciano chissà chi eh ho passato? sì stavo bene ti hai fatto un bel danno comunque eh sì c'ho tutto questo tizio appeso e quello che è schifo è schifo ma veramente che poi lei volevamo parlarne dieci volte lui vorrei tanto capire come stavano facendo ma se ti ho fatto una cosa da aiuto non uccidermi allora questa è la costituzione alta quindi penso che sia difficile fare sì a bè ci ho provato non ci ho provato a buttarla per aria era divertente buttarla per aria un po' questo cosa fa no citete il tizio che tanto questo ormai adesso mi curca e ti tocca? però beh mi sa che tocca a te eh sì tocca a rotto sì sì no mi c'è ok ciao eh no vabbè chi è che sa deve essere curato? io ma sto dall'altra parte del mondo no non ce la faccio vabbè non fa niente questa mano lo ammazza eccola però se ti ho fatto un bel attacco opportunità cioè vedi per ammazzare me sono ciechi cioè non capisco perché ecco qua vabbè lascia sta ti vendi con io non ti preoccupare sì andiamo ad attaccare a quelli morto mannaggia no no ci va in primo niente si mannaggia come niente ho fatto quindici danni che niente quanto manca? che significa quanto manca? vai ciao ahhh aiutiamola ci penso da solo ok vabbè vabbè andate meglio di quello che pensavo sto compattimento noi dovevo parlare eh sì parliamo che state a combina ah ok vi state rimproverando sì un litigio tra moglie e marito esatto e io non metto il dito si è meglio anche se il mio personaggio ha una faccia proprio scazzatissima avrebbero deciso qualcuno prima o poi esatto siamo d'accordo per una volta il mio personaggio ha sempre questa faccia scazzatissima la spende l'ho cliccata ah si infatti era la 2 la 1, la 2 o la 3 ne usciremo mai da questa conversazione e allora ah dovevo decidere io non so perché dovevo darvi ragione in qualche modo se basta che la finite ma quel cadavere l'avete depredato? luttato o no? ah c'è anche dell'acido ok tutti quanti a prendere l'acido però almeno qualcosa l'ho presa che c'è? no parla di razze sensuali vabbè uh c'è anche il gatto bene ti viene a far curare un atto dove stai? c'è un punto di vita questo è il primo stiamo di là fermati ah mo mangio qualcosina stiamo di nuovo in due patate che mangia patate e campa cent'anni a due patate e stiamo al posto great sword ma non la prendo questa spada se solo avessimo qualcuno a cui venderle ma abbiamo raccolto un sacco di vite prezioso che è deep grove? oh no c'è un ponte rotto vabbè non andiamo per di qua no qua finisce chi è che è rimasto ancora là dentro? Alcalimo sono accaduto tutto quello che posso raccontare un salito di alcalimo ok quel predone di infienigli di alcalimo brava diglia dobbiamo recuperare i soldi per comprare le scroll o no? eh ma chi ce le vende le scroll? questo è il problema i droidi li vendevano prima di morire lo salvo aspettate io non c'ho più in cantissimo eh allora dovremmo andare a dormire esatto e mi sa ragazzuoli che io pure vado a dormire ma è la realtà va bene facciamo solo una cosa quanto quanto ancora pensate di stare online? poco molto poco vorrei vedere solo quei compri in lì cosa possiamo fare sì se aspetti solo un attimo mi sa che se è un combattimento oh oh mannaggia che daia madonna sempre queste storie qui ma che vuoi? ma chi sei? sì vabbè ciao io devo ho i problemi perché che problemi c'hai? a me mi sta toccando anche a me ma mi scusi fate aiutare vai via no 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 aiutami no io dico vai via dalla mia testa ora oh ma queste sono molestie eh anch'io io ve l'ho detto sono molestie belle e buono a me mi sta accarezzando nel viso ah ah chi è quello? chi è? un cavaliere all'improvviso che mi attacca ma io non so io anche uso un un pugnale e uccido un cavaliere proprio io con il pugnale eh e tu sei un mago c'hai il pugnale ma è un sogno quindi sono nel sogno certamente perché è un figura disegnata in realtà ah che bel panorama ma è Baldur's Gate la manina che schifo di manina c'è nato ma perché tutto questo? io non ti voglio ok meno male è finito ho sempre un paura di questa roba che chi è venuto in mente ha acquisito l'Alarian non lo so però mi inquieto ma pure io mi devo essere drogata quando ho detto che eh quello fammi entrare in che senso? eh ah no ma di nuovo tutti vogliamo parlare del sogno ah se no noi vogliamo parlare del sogno vabbè su su no è due riusciamo ad andare a questo cavolo oh mi perso ha già parlato così all'improvviso ecco va bene ti renderei del gruppo eh andiamo su premete sulle brand avevo salvato giusto sì ma c'è un altro modo per andare lì vediamo un po' scusi voglio solo vedere questa cosa non c'è nessun modo per aggirarli quelli eh giusto no c'è un attaccato e forza non c'è un modo per prenderli di sorpresa ma di qua dove si va? eh sti coperini ce li lasciamo dietro ma sì ce li lasciamo dietro ma dipende quanti sono? sono troppi secondo me stanno ancora giocando mercondi ci sono quattro goblin e due warg due warg no scusami sei goblin e due warg sì sì lasciamoci le spalle via sì andiamo a vedere ignoriamoli facciamoli divertire andiamo a vedere di qua che ci sta ah di qua c'è il loro villaggio eh dobbiamo tornare al nostro villaggio intanto ci metto pochissimo e prenderci la tipa la goblin se no c'è ci attaccano a pista quindi fast travel sylvanus grove ok siamo qui a sylvanus grove vabbè fast travel aspetta che non lo trovo dove sta il fatto a destra è la penultima è la penultima icona ah ok eccolo qui dove destinazione sylvanus grove ok ti aspetto un attimo sì 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 sono qui sono qui ho visto ho messo la telecamera male ecco qua ci abbiamo la tua preghiera sempre messa salve tutto bene qui giusto ragazzi seguimi perché adesso dobbiamo fare una cosa e non possiamo riprendere il che diciamo è talmente semplice la tizia bisogna sentite che detto non ho capito no male ho sentito male ma ora si ora si seguitemi che pure non so sto andando malino proprio la mia connessione mi sa che va malino c'è problemi di connessione raga forse dobbiamo trovare come si chiama la tizia che sta in prigione dove stava qua giù ma a me mi sento sbagliato stava al campo no e qua no al campo al campo ha detto no non sta qua sta qua eccolo qua ho trovato ah no non c'è più l'hanno uccisa no e questi che stanno a fare qua vedi questi non stavano qua infatti non c'è più questi che me li hanno combinato mi pensavo i druidi erano piacenti piacenti amici natura amici mostri mostri ciò che conosco Vabbè Come facciamo? No, vabbè, tanto basta fare fast travel E torniamo Al Blighted Village, semplice Un cazzo di mercante Non ci sa Intanto No No Avevo salvato, sì Quindi andiamo a vedere che succede se mi butto verso il villaggio dei Copelini Ma non credo che andrà bene Ma c'ho più che, c'ho problemi stasera Ciao Roberto, ciao Domenico Non lo so che cazzo succede nel mio computer oggi Comunque va un po' male Di nuovo fuori Boh Forse è meglio perché Forse è meglio che chiudiamo qui Perché lo vedo un po' male Sì, è già la seconda volta che lo fa No, ma è colpa mia stavolta Quindi ragazzi scusate Mi sa che ci conviene chiudere qui Scusatemi Perché oggi l'ho visto male L'ho visto male del primo minuto Oggi non so che è successo Ok ragazzi Grazie mille per averci seguito E ci sentiamo prossimamente La settimana prossima Dovremo fare una lettura Silvia Quindi non lo so Sì Proviamo martedì Io ci sono Va bene Va benissimo Allora che arrivi Ringrazio tantissimo Facciamo sempre però di sera Sì, sì Certamente Grazie Grazie Perché c'è stato Un paio di combattimenti molto divertenti Quello l'ago Igeragno Quanto meno Però ok Grazie ragazzi Ciao Adesso Ciao Ciao a tutti Arrivederci alla prossima E a presto